rispondimi dai parla di come facevamo una volta perché lo sapete perché io l'ho visto ho visto tutti noi morire ok vado a prendere più di case ce ne possiamo andare che succede la biblioteca no 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 me ha ricordato più grave ehi las ma fai ma non sapevo se non sapevo tutta me ma la chiamare sono le 10 ma tanto domani è allerta media no domani è allerta media vai io non tanto andato a scuola vuoi dell'acqua? si grazie ricordare è importante è la chiave certo è la chiave di tutto quanto se ci vuole riportare qui non credi che la cosa più intelligente sia andarci no 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 it vuole che torniamo certo che lo vuole ma lui non sa che io so quello che so e che cosa sai? cazzo so come ucciderlo ho letto ogni libro ho parlato con ogni persona in questa città maledetta con quelli che accettavano di parlarmi anche se non erano molti cosa? non è stato sufficiente dovevo sapere come tutto questo è iniziato come è? è iniziato come ti ha l'otto? non hai fatto? eh è dei tu decimo che stai va bene? è iniziato guarda 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 qui oh che sto guardando? un manuzzo gotti amore inizio diciottesimo secolo sciocco vivo sciocco più come lei? non mi l'ho trovato sono stati loro a danno l'ho rubato l'hai rubato? dei nativi americani è complicato sicuro? mi hanno aiutato nel mio viaggio è bellissimo mi hanno mostrato delle cose una visione cavolo mi sento un po' strano accanto sto sudando devi vedere quello che mi hanno mostrato vivono fuori da lì lontano da il si sono stabiliti lì molto tempo fa il loro sciamaro il loro santone mi ha accolto mi ha dato la sacra natura e ho cominciato a reagire tutti gli esseri viventi devono rispettare le leggi della forma che abitano mentre sedevo lì a guardare la palle l'ho visto arrivare avrei dovuto fare in modo che tutti voi lo vedeste non mi sento bene ti chiedo più guardare e la mano e la mano che mi ha accolto mi ha accolto Grazie a tutti.